Riesce sempre molto difficile rispondere a quella domanda fatidica perché? Perché negli anni 70 purtroppo in quella follia ideologica di intossicazione, di violenza, l'uomo veniva in un certo senso degradato del suo essere tale e diveniva un simbolo. Come lo è stato Emilio che il suo malgrado è stato prima bersaglio, poi è divenuto con gli anni il prototipo di quella categoria dell'eroe borghese che io penso lui sorriderebbe di fronte alla quale. Così Marco Alessandrini intervenuto alla cerimonia istituzionale in ricordo del papà e magistrato Emilio Alessandrini, ucciso barbaramente 43 anni fa da un commando terroristico di prima linea Milano. Il sostituto procuratore aveva 39 anni e nel corso della sua carriera si era occupato delle inchieste più scottanti, quelle sul terrorismo di sinistra, sugli scandali finanziari legati al Banco Ambrosiano, sui servizi segreti deviati e quella sull'attentato alla sede milanese della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Oggi continua l'eco di quella stagione e di ieri la notizia della scomparsa di Corrado Alundi, molti non sanno chi è Corrado Alundi, era un terrorista nel cui covo nel settembre del 78 venne trovata una foto di formato tessera di mio padre. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, uno dei due che materialmente hanno assassinato Emilio ha pubblicato un appendice ad un suo libro. Io penso che non abbiamo bisogno di cattivi maestri, non abbiamo bisogno di zietti birichini che ci raccontano in maniera distorta una stagione come se fosse all'insegna di un sogno rivoluzionario, perché c'è quella linea molto chiara che è quella della democrazia, delle regole, del nostro stare insieme con il rifiuto netto, senza se e senza mai di qualunque forma di violenza.